fatemi sapere quando vedete sì sì vediamo ok buongiorno a tutti mi presento sono francesca varlien e sono la solution specialist del segmento corporate per dynamics 365 crm e per power platform nel mio ruolo in microsoft aiuto le aziende italiane a raggiungere e superare gli obiettivi attraverso la trasformazione digitale quindi reimmaginando il business e i loro processi con le ultime tecnologie disponibili passo ora a darvi una veloce presentazione dei prodotti che andremo a vedere diciamo intanto che c'è una sfida al giorno d'oggi molto importante quella dei dati i dati sono ovunque ogni nostra azione o dei clienti o dei competitor genera dati nel vecchio maggiore modello aziendale questi dati vivevano in silos nelle applicazioni da cui venivano raccolti questa frammentazione dei dati impedisce alle imprese di avere una visione olistica del proprio business e quindi poter prendere decisioni informate dynamics 365 è nato per rispondere a questa esigenza sfruttando le ultime tecnologie come la iot o l'intelligenza artificiale per aumentare la produttività l'efficienza dei processi la compliance e soprattutto riportando i dati al centro del business le aziende d'organizzazioni di successo hanno la necessità di connettere digitalmente ogni parte del proprio business ottimizzando processi operativi dotando i propri dipendenti delle informazioni e degli strumenti necessari per interagire e coinvolgere i clienti e per trasformare l'offerta questa è la strategia che sta alla base di dynamics 365 grazie alla connessione dei dati all'intelligenza artificiale dynamics 365 e power platform costituiscono le business application intelligenti più completa al mondo con dynamics 365 abbiamo la possibilità di connettere dati provenienti da qualsiasi fonte che sia microsoft che sia prodotti di terze parti che sia un premise oppure online questo slide mostra la customer journey pensata da microsoft l'approccio è quello di creare un'esperienza unica e completa per ogni cliente dalla prima all'ultima interazione dynamics 365 marketing è la funzione iniziale nella serie di applicazioni dynamics per offrire clienti questa giornata completa che parte dalla generazione della lead per arrivare fino alla generazione di opportunità di crossello upsell consente di generare business in attività come l'ottimizzazione delle leads utilizzando la prediction per esempio combinando i dati storici con i dati esterni oppure la creazione di campagne mirate a segmenti specifici o la creazione di contenuti online personalizzati e molto altro dynamics 365 marketing vive sulla stessa piattaforma di dynamics 365 sales vi si connette in maniera naturale senza bisogno di connettori questo allineamento di dati e di processi tra il marketing e sales consente di ridurre sforzi e costi in entrambi le aree attraverso l'orchestrazione di questa customer journey offre quindi un'agilità assoluta per supportare ogni modello di vendita che sia da remoto sul field oppure ibrida per quanto riguarda l'ultima parte quella del service alla fine della nostra giornata troviamo dynamics 365 customer service che grazie al supporto omni channel da una visione a 360 gradi del cliente rendendo più facile ogni processo decisionale aiutando il customer service ad offrire un supporto personalizzato e costante attraverso ogni canale facilitando poi crosselle upsell grazie a raccomandazioni ad hoc sui prodotti sui servizi infine l'ultima componente di dynamics 365 crm è il field service che consente alle imprese di fornire un servizio proattivo e preventivo migliorando la soddisfazione dei clienti la first time resolution e la produttività in generale grazie allo scheduling intelligente delle risorse e dalla loro ottimizzazione alla possibilità di lavorare lavorare e colorare remotamente facendo leva sulla iot e sulla mix reality ho finito questa breve panoramica vi ringrazio per l'attenzione e lascio ora la parola a maurizio grazie grazie francesca buongiorno di nuovo maurizio marin vir phoenix dynamics crm e partendo dalla spiegazione che appena ha fatto francesca quindi della customer journey iniziamo il nostro focus orientato sull'area vendite e parliamo nello specifico della vendita smart e di come della mix 365 crm ci può aiutare lavorando in modo collaborativo e supportato da l'intelligenza artificiale allora innanzitutto cosa significa vendita significa porter prendere delle decisioni supportate dai dati risparmiare tempo nell'attività quotidiana del venditore dedicando quindi maggior tempo all'attività di vendita e agire con maggiore efficacia grazie a quelli che sono degli insights che ci propone il sistema e che ci consentono di accelerare il ciclo di vendita delle delle trattative vediamo un po dal vivo un po meglio di cosa si tratta e ci spostiamo direttamente su un ambiente crm reale immaginiamo in questo scenario che sono un sales manager quindi ricopro ruolo di responsabile delle vendite di un gruppo di lavoro e nel momento in cui accedo al sistema crm la prima cosa che vedo è una dashboard un cruscotto che sostanzialmente mi dà visibilità dell'andamento del del business e prima cosa che vedo appena entro è quelle che sono ad esempio la situazione delle opportunità e quindi capire quante opportunità in termini di valore sono state completate come vinte e quante sono invece le opportunità che abbiamo in corso e qual è il loro il loro valore interessante vedere che ad esempio in funzione dell'opportunità che sono state gestite e quelle che poi sono già state completate con successo ha vinto abbiamo anche un'indicazione di quello che è il win rate vediamo poi inoltre in questo dashboard che quelle che sono le trattative aperte possono essere suddivise nel loro valore nel mercato di appartenenza quindi nell'industria di appartenenza dei clienti con cui queste opportunità sono aperte quindi con cui stiamo lavorando sempre diciamo con l'ottica del sales manager è interessante vedere anche la situazione della pipeline quindi in funzione delle opportunità che sono in corso qual è il loro valore suddiviso nelle fasi di avanzamento dell'opportunità stessa in questo caso abbiamo tre parametri di identificazione che sono le opportunità in una fase di qualifica quindi in una fase diciamo iniziale in una fase intermedia di sviluppo e una fase decisamente più avanzata di proposta posso poi vedere in funzione appunto delle trattative qual è l'andamento dei membri del mio team di lavoro quindi delle persone che lavorano nel mio gruppo e quindi capire come stanno agendo qual è il valore delle trattative che hanno a portafogli in questo momento è interessante nel momento in cui appunto entro nel CRM e a colpo d'occhio vedo la situazione del business rapportare il dato dei miei venditori in funzione anche del forecast cioè degli obiettivi che gli sono stati assegnati per un particolare periodo di tempo ad esempio per un quarter e capire come effettivamente stanno agendo come stanno performando qui accediamo infatti alla funzionalità di forecasting dynamics 365 e cosa vediamo vediamo la struttura del mio gruppo di lavoro le persone che in questo momento lavorano all'interno del mio gruppo ed effettivamente come stanno performando in primis guardando i dati diciamo essenziali del mio team vedo quello che è la quota il budget che è stato assegnato all'intero team e in questo momento come è posizionato a livello di forecast il forecast è dato sostanzialmente da le opportunità che sono state dichiarate vinte più quelle che sono in una fase di confidence molto avanzata diciamo prossima alla chiusura e quindi possiamo sostanzialmente identificarle come il portafoglio delle trattative che stanno entrando altro dato interessante è vedere a livello appunto di confidence in questi tre filoni come effettivamente le trattative sono suddivise quindi quelle come dicevamo che sono in una fase molto avanzata e sono prossima alla chiusura quindi con una confidence molto elevata quelle che sono in una fase un po' più intermedia ma a buon punto e quelle in una fase proprio iniziale quindi opportunità trattative che sono state aperte, create dal venditore ma ancora in una fase iniziale quindi devono essere sviluppate lo stesso dato lo possiamo vedere non solo su gruppo come dicevamo ma poi specifico per ogni risorsa quindi per ogni utente, per ogni commerciale appartenente al mio team posso avere lo spaccato e l'identificazione delle trattative nelle varie situazioni è interessante analizzare ulteriormente il dato facendo un drill down ad esempio per industry lo vedevamo, lo dicevamo anche prima quando commentavamo la dashboard ma anche qui nel momento in cui parlo, scusate verifico la situazione del forecast posso avere uno spaccato per industry e quindi si fa interessante ad esempio analizzare il settore del manufacturing e capire in questo momento quali sono effettivamente le opportunità che sono state gestite quelle che sono tuttora aperte e il loro posizionamento in questa lista ad esempio vediamo in grigio quelle che sono le opportunità che sono già state completate alcune come vinte, altre magari come perse piuttosto che annullate e quelle invece in eretto che sono effettivamente le opportunità che sono tuttora aperte e in corso ci corre in aiuto una visibilità di tipo Kanban che ci consente di avere la situazione maggiormente sotto controllo e ancora una volta avere la suddivisione delle trattative nelle tre fasi di confide che abbiamo configurato e da questo punto di vista posso come sales manager commentare direttamente col mio team l'andamento delle opportunità posso contattare una singola risorsa e cercare di spingere azioni per questa opportunità e fare in modo che possa concretizzarsi nel più veloce più velocemente possibile in questo caso ad esempio immaginiamo che magari contatto la persona che sta gestendo questa opportunità magari proponendo uno sconto in maniera tale che sull'intero montare dell'opportunità si possa arrivare più velocemente alla chiusura e posso mentre commento il dato con il mio venditore spostarla in una fase di confidence superiore nel momento in cui faccio questa operazione in realtà il sistema sta già aggiornando i suoi dati e se vedete proprio a livello di forecast mi sta aggiornando la situazione dei valori nelle diverse fasi un'altra funzionalità interessante sempre parlando del forecast è di confrontare la situazione che stiamo vedendo in questo momento con i giorni pregressi questo per capire effettivamente come i commerciali si stanno comportando come stanno agendo sulle diverse opportunità di business per cui posso confrontare il dato con i giorni precedenti il sistema può essere configurato per effettuare degli snapshot cioè delle fotografie che in funzione appunto di un periodo che vado a identificare mi consente di vedere effettivamente come le trattative si sono evolute questo sempre a livello di team oppure per specifica risorsa tornando al dato principale del forecast prendendo ad esempio il mercato sempre del manufacturing posso nel momento in cui vado a vedere effettivamente quella che è la composizione delle mie opportunità sceglierne una specifica che richiede la mia attenzione entrare nel dettaglio e vedere effettivamente questa opportunità come è articolata e come è strutturata nel momento per esempio che entro in un'opportunità ho la possibilità come in questo caso di avere l'intera visibilità delle azioni che sono state svolte dal mio commerciale innanzitutto l'opportunità di che cosa si tratta qual è chiaramente il cliente di riferimento la persona con cui stiamo interloquendo ovviamente ho di riferimento anche i valori che compongono l'opportunità ma cosa ulteriormente interessante è quella di avere la cronostoria di tutte le attività che il commerciale ha gestito su questa specifica trattativa per cui se sono state generate delle email degli appuntamenti, dei task, di attività che devono essere effettuate sia dal commerciale stesso sia da altre persone che all'interno dell'azienda hanno partecipato o stanno partecipando allo sviluppo dell'opportunità abbiamo inoltre un processo di business che guida l'utente quindi il commerciale nell'avanzamento dell'opportunità e come se fosse un wizard lo guida appunto nelle varie fasi e in alcune situazioni lo obbliga nel compilare alcune informazioni in maniera tale che l'opportunità sia maggiormente completa e questo sia anche un dato di ritorno per lui per gestire al meglio il business dall'opportunità poi abbiamo la possibilità di visualizzare anche tutte quelle che sono le offerte legate a questa trattativa posso averne una o più di una in funzione della complessità dell'opportunità e con un semplice clic che poi posso entrare all'interno dell'offerta per vederne i dettagli ecco qui vediamo una funzionalità del CRM che è sviluppata da noi da Vior Phoenix ed è il Sales Plus il Sales Plus è una sostanzialmente una griglia di preventivazione che ci consente di gestire in modo più ampio e più completo la preventivazione di prodotti e servizi ai nostri clienti questo componente ci consente di inserire appunto gli articoli che dobbiamo quotare al cliente e di inserire al meglio quelle che sono le condizioni commerciali che vogliamo riservare Sales Plus per Vior Phoenix nasce diversi anni fa in precedenza il componente si chiamava Speedy Plus ed è appunto un ed-in che si aggiunge al sistema Dynamics può essere configurato non solo per le offerte ma anche per le opportunità ed eventualmente anche per gli ordini chiaramente questo dipende dall'esigenza che si ha e appunto consente una gestione più completa dell'attività di vendita in questo caso per quanto riguarda l'offerta vediamo che è presente già un articolo il commerciale cosa può fare può sicuramente aggiungere nuovi prodotti lo può fare manualmente andando a digitare quello che è il codice del prodotto che vuole inserire in offerta e nel momento in cui digita tutto il codice o parte del codice il sistema inizia a ricercare nella propria anagrafica prodotti e dare evidenza di quello che è effettivamente il prodotto una volta selezionato il CRM ci mostra quelle che sono le informazioni di base del prodotto tipo il nome ma anche in funzione del listino prezzi che è stato identificato sull'offerta anche quello che è il listino riservato al cliente quindi il prezzo di vendita al cliente per questo prodotto poi in funzione della quantità che il commerciale andrà ad indicare come in questo caso io sto inserendo 40 vedete che in realtà il sistema CRM ci propone anche in automatico lo sconto che può essere applicato a questo prodotto per la quantità indicata questo perché il sistema CRM in realtà ci dà disposizione delle discount list quindi delle liste sconti che in base a un certo listino prezzi e per uno specifico prodotto può essere appunto applicato al cliente sconti che possono essere percentuali oppure a valore poi il commerciale chiaramente ha sempre facoltà di interagire ulteriormente sulla quotazione per riservare eventualmente uno sconto a valore come in questo caso che agisce sul totale di riga interessante vedere che ad esempio cliccando su un articolo che ho inserito il sistema mi propone in questa parte più bassa della griglia quello che è lo storico delle vendite fatte a questo cliente per il prodotto che ho selezionato mi mostra in precedenza le quotazioni che ho riservato al cliente volendo le posso richiamare portandole direttamente nella griglia di preventivazione e le vedo pari pari come erano state riservate in precedenza ma posso interagire applicando ulteriori sconti piuttosto che modificando le quantità sulla griglia poi possiamo agire anche in qualsiasi momento aggiungendo o eliminando posizioni e l'inserimento come dicevamo può avvenire in modo del tutto manuale come abbiamo visto oppure possiamo anche importare delle configurazioni da un file esterno un file Excel che abbiamo presente localmente sul nostro computer e importarlo direttamente all'interno del sistema CRM sia con le informazioni di prodotto e quantità ma anche con la valorizzazione economica un'ulteriore ed interessante funzionalità che abbiamo sulla griglia è anche quella non solo di inserire prodotti che sono diciamo a catalogo quindi che sono effettivamente all'interno dell'anagrafica ma anche prodotti che per il CRM vengono identificati come write-in cioè prodotti che non sono in anagrafica quindi posso mettere una riga con descrizione libera tipo trasporto e dare una valorizzazione che poi viene riportata in offerta queste chiaramente sono solo alcune delle funzionalità direi le funzionalità molto base che abbiamo del Sales Plus il Sales Plus è un componente come dicevo all'inizio molto articolato che ci consente di implementare di dare di aggiungere ulteriore forza al CRM Dynamics e in alcuni scenari avere anche integrazioni con quello che è l'IRP aziendale e avere in tempo reale informazioni di disponibilità prodotto di prezzo e quant'altro quindi una griglia che ampia di molto le funzionalità di base del sistema CRM su questo vorrei introdurre qualche minuto una referenza da parte di un nostro cliente Gevis vorrei lasciare la parola a Massimiliano Urso che è responsabile dei sistemi applicativi business di Gevis e sicuramente ci può illustrare come Dynamics CRM è stato utile per l'intera organizzazione benvenuto Massimiliano grazie Maurizio buongiorno a tutti presento brevemente Gevis per chi non la conoscesse già Gevis è stata fondata nel 1970 quest'anno festeggiamo quindi il nostro cinquantesimo anniversario e nasce soprattutto sull'intuizione rivoluzionare dell'uso del tecnopolimero all'interno dell'impiantistica elettrica e poi grazie alla continua innovazione oggi propone una vasta gamma di soluzioni per la domotica l'energia all'illuminazione con soluzioni che arrivano all'e-mobility e alle smart city il gruppo è composto da sei stabilimenti produttivi dislocati in Europa di cui tre in Italia abbiamo quattordici società commerciali e service e abbiamo una presenza in oltre cento paesi nel mondo con filiali di agenzie e distributori composto da circa 1500 dipendenti nel gruppo nel 2016 nel suo processo di sviluppo e di innovazione costante anche in ambito tecnologico Davis ha scelto la soluzione Dynamics per il nuovo CRM il progetto è stato avviato in collaborazione con Wurt Phoenix e in questi quattro anni abbiamo stretto una forte partnership definendo un percorso pluriannale con fasi di rilasci successivi di funzionalità e rollout nelle varie filiali siamo partiti inizialmente con la base delle anagrafiche lead attività per arrivare allo sviluppo delle opportunità e delle offerte nel progetto di implementazione del CRM abbiamo dovuto affrontare molteplici sfide una delle principali è stata sicuramente la proposizione della nostra offerta commerciale perché è estremamente ampia Gavis infatti è in grado di fornire un impiatto elettrico integrato che si compone di oltre 20.000 prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato elettrotecnico in ambito residenziale industriale e terziario e quindi siamo passati soprattutto da degli strumenti client basati sul precedente CRM on-premise alle funzionalità cloud offerte da Microsoft Dynamics l'esigenza e la sfida quindi è stata quella di rendere flessibili e rapidi la gestione in un client web come quelli client dell'imputazione in alcuni casi che raggiunge anche le migliaia di referenze in una nostra offerta in una nostra proposizione con Wurtfenix abbiamo scelto e condiviso la soluzione Safe Plus perché è perfettamente integrata all'interno del Dynamics CRM e ricca di funzionalità che si sono presentate sicuramente configurabili e personalizzabili secondo le nostre esigenze abbiamo dovuto un po' gestire diverse quindi andiamo un po' nel tecnico e descriviamo come abbiamo implementato noi la griglia che vi faceva vedere in precedenza Maurizio abbiamo avuto diverse modalità di imputazione all'interno dei nostri documenti e abbiamo affrontato diverse gestioni sicuramente una di queste è stata all'interno delle opportunità perché necessitavamo di un'imputazione orientate ai valori di catalogo famiglia molto raggruppati e grazie a questo tipo di configurazione abbiamo definito delle funzionalità molto più semplici e immediate mentre all'interno delle offerte abbiamo combinato sostanzialmente in un unico ambiente principalmente tre modalità tre viste una progettuale e due economiche basate sul aspetto della proposizione commerciale lato sell out e quella lato sell in nei confronti dei nostri distributori e posso dire posso sicuramente citare principalmente alcune delle funzionalità che siamo riusciti ad implementare con successo all'interno di sales plus l'inserimento e la ricerca degli articoli estremamente facilitata che oltre a come vi faceva vedere Maurizio con un help di ricerca in linea durante l'imputazione permetteva anche di inserire solo parte del codice schiacciando invio e il sistema riconosce il resto della referenza proponendo il codice più appropriato senza dover digitare tutto il codice completamente e soprattutto anche la velocità nell'imput perché ha permesso di gestire una tabulazione orientata e ordinata passando da un campo all'altro senza staccare sostanzialmente le mani dalla tastiera dove usare il mouse e così via quindi per noi che come dicevamo abbiamo anche migliaia di prodotti all'interno di un'offerta è importante è stato importante velocizzare questo tipo di inserimento le altre funzionalità che abbiamo sviluppato sono state quelle di integrazione molto spinta con il nostro gestionale quindi oltre alle capacità intrinseche all'interno del CRM che aiutano a definire listini e sconti di base il nostro motore pricing principale per una scelta progettuale l'abbiamo lasciato sul nostro gestionale e quindi c'è una forte interazione online con il gestionale per ricavare tutta la parte di pricing dettagliata per cliente ambito promozione e così via voglio citare sicuramente un altro degli elementi estremamente funzionali che ci sono all'interno della griglia che è quella della gestione di pivot direttamente nell'imputazione quindi senza anche salvare dover passare ad altri strumenti magari più analitici all'interno della stessa griglia è possibile trascinare in maniera semplice colonne che si desiderano pivotare all'interno della soluzione e questo fa sì che tutti gli articoli vengono raggruppati per queste tipologie e si può vedere in maniera rapida somme condizioni medie applicate e così via quindi avere una vista immediata durante l'inserimento dell'articolo mi fermerei qua grazie grazie a voi grazie mille massimiliano per la tua testimonianza direi che sul focus vendite possiamo chiudere qui lascerei la parola adesso al collega Michele Cone che invece ci introduce la parte post vendita quindi il modulo di customer service self-field service a te Michele sì grazie buongiorno a tutti sono Michele Cone ci siamo già presentati all'inizio sono il team manager del team da NMS 365 CRM a Bolzano ecco riprendo la customer journey di cui ci hanno parlato sia Francesca e sia Maurizio e abbiamo visto con questa customer journey che da NMS 365 sostanzialmente garantisce un'esperienza unica all'utente e ad ogni azienda e supporta l'azienda nel passaggio su tutti i processi produttivi quindi sia in area marketing per poi passare all'area service di cui ci ha parlato Maurizio e adesso arriviamo all'area service che è quella di cui parleremo in quest'ultima parte del nostro webinar e già Francesca ci introduceva il fatto che NMS 365 mette a disposizione almeno diciamo così tre moduli dedicati al service il connected field service cioè le macchine di produzione che mandano dei messaggi IoT e li fanno convogliare e li fanno arrivare sul CRM adesso lo vedremo e la parte di customer service ovvero la parte di gestione del service all'interno dell'azienda e la parte di field service ovvero una volta che si è capito che non è possibile risolvere il problema remotamente ma bisogna intervenire si esegue proprio l'invio di un tecnico per risolvere il problema sul campo ecco vedremo proprio questo percorso fra poco insieme sul sistema ecco noi negli ultimi anni abbiamo realizzato molti progetti service e field service con i nostri clienti in molti casi quando arrivavamo in azienda a lavorare con le aziende all'inizio del progetto diciamo così abbiamo trovato dei reparti service che lavoravano con strumenti molto manuali quindi tipicamente liste di ticket inseriti in file di Excel o addirittura fogli di lavoro rapportini di intervento cartacei che ritornavano in azienda dopo l'esecuzione dell'intervento o anche ancora più tipico la pianificazione dei tecnici vera e propria fatta in file di Excel con tutte le difficoltà che questo implica soprattutto il fatto di magari doppi inserimenti di dati e quindi possibilità di errore o anche dati sporchi in molti casi o come ho detto prima il fatto che ci fosse un grande ritardo di ritorno dell'informazione dal momento in cui il tecnico aveva fatto l'intervento al momento in cui questa informazione tornava in azienda ecco nel corso della realizzazione del progetto dei nostri progetti soprattutto con il volat degli utenti che sono passati a utilizzare il customer service e il field service abbiamo visto cambiare il loro modo di lavorare e orientarsi sempre di più verso tipologie e tecnici del service che lavorano in maniera automatica quindi il nuovo modo di lavorare dei tecnici nell'ambito service e field service è supportato dalla piattaforma in tutte le sue fasi i tecnici utilizzano un unico sistema IT che appunto è Dynamics 365 in ogni fase del loro lavoro possono lavorare in mobilità in maniera online e in maniera offline e possono anche assicurare uno scambio continuo di informazioni tra il tecnico stesso e la sede in tempo reale ecco diciamo due parole su quello che andiamo adesso a vedere adesso lasceremo le slide per andare sul sistema e vedere alcuni esempi voglio farvi vedere vogliamo farvi vedere il nuovo modo di lavorare per l'ambito service che ci fornisce Dynamics 365 Customer Service e Field Service partiremo dalla parte degli allarmi IoT non è questa la sede per approfondire tutto questo discorso ma comunque diciamo che vedremo una macchina l'abbiamo citato poco fa una macchina dislocata presso i vostri clienti possa emettere degli allarmi quindi mandare dei messaggi costantemente circa il suo stato e circa il suo funzionamento quindi misure di pressione misure di temperatura numero di pezzi prodotti numero di pezzi guasti eventualmente e mandare degli allarmi al sistema CRM questo allarme viene creato nel sistema tipicamente genererà in automatico un caso un caso Customer Service siamo quindi da parte di Customer Service che serve per qualificare il problema e per incominciare a svolgere le prime azioni di risoluzione se non è possibile risolvere il problema remotamente quindi semplicemente con un ticket bisognerà allora generare un work order che è il corrispondente sul sistema di un foglio di lavoro e che serve che sarà poi il documento diciamo così che utilizza il tecnico per realizzare l'intervento dopo la generazione del work order vedremo la pianificazione vera e propria degli interventi vedremo come la piattaforma Field Service supporti il pianificatore diciamo così il dispaccio in azienda a effettuare la pianificazione filtrando i tecnici disponibili con tanti materiali da tanti punti di vista e dopodiché vedremo l'esecuzione vera e propria dell'intervento in mobilità quindi su un telefonino su uno smartphone o su un tablet da parte del tecnico e poi vedremo l'analisi dei dati una volta che è completato l'intervento e si ha a disposizione tutte le informazioni ecco passo quindi sul sistema ecco qui come succedeva ci ha fatto vedere Maurizio che come succedeva in area Sales nel momento in cui l'utente dell'ambito Sales entrava sul sistema vedeva un cruscotto di natura Sales nello stesso modo qui stiamo vedendo un cruscotto di natura Service vedete che il sistema ci sta facendo vedere che in questo momento nel nostro sistema sono aperti 62 ticket un ticket è stato sospeso e ci sta dando molte altre informazioni un grande tema è la gestione delle SLA anche qui non mi dilungo nella spiegazione di cosa siano le SLA sono i service level agreement sostanzialmente e quindi la possibilità per la vostra azienda di definire dei tempi di intervento e di risposta che volete garantire ai vostri clienti e quindi questo dato è molto importante perché ci dice vi dice quanto voi stessi siete compliance rispetto alle regole di servizio livelli di servizio che avete deciso di voler o magari che avete concordato con i vostri clienti ecco e poi abbiamo uno spaccato di analisi diciamo così dei ticket e dei casi e dei work order e degli allarmi da tanti punti di vista qui stiamo vedendo per esempio i ticket per tipologia di manutenzione ordinaria di manutenzione correttiva di riparazione qui stiamo vedendo di nuovo i ticket verso la compliance rispetto alla SLA cioè quanti ticket avete gestito in maniera compliance rispetto ai vostri livelli di servizio e quanti in maniera non compliance ma dato ancora più interessante vedete questa fettina ci dice che ci sono due ticket in questo momento che sono nieringla non compliance cioè si stanno avvicinando quindi su quelli sui quali probabilmente bisogna intervenire subito poi li vediamo per priorità e poi li vediamo per categorie sotto categorie come sempre queste dashboard non sono morti diciamo così non sono delle immagini ma è possibile navigare al loro interno cliccando vedete che si filtra vedete che anche i dati geografici nei casi si aggiungono cliccando qui passo ad aprire la lista degli allarmi nella slide abbiamo detto che saremo partiti da un allarme generato da una macchina per un problema ovviamente e infatti questa è proprio la lista degli allarmi che stiamo ricevendo dalle macchine che state sul territorio in questa vista vediamo molte informazioni la data dell'allarme il tipo di allarme una classificazione degli allarmi il numero e l'allarme è vero e proprio se io clicco su una riga di queste quindi apro un allarme nello specifico vedo i dettagli che sono poi i veri e propri dati relativi all'allarme che la macchina ci ha mandato in questo caso si tratta di questa macchina macchina numero 05452234 che ha mandato un allarme di tipo un errore di tipo 0023 sulla control unit qui abbiamo molti dettagli dell'allarme e poi vedete che in verità stiamo già vedendo molte altre informazioni per esempio il luogo dove è situata questa macchina e quindi di conseguenza il cliente e molte altre informazioni qui vediamo la barra di processo che ci dice che automaticamente il sistema nel momento in cui ha ricevuto l'allarme ha creato un ticket e infatti qui vediamo il ticket questa è una configurazione che abbiamo voluto noi chiaramente si potrebbe lasciarlo creare manualmente ma in questo modo il più comodo qui siamo andati sulla scheda del ticket del caso questa è la parte di customer service come dicevamo prima questa parte ci serve per qualificare il problema e anche per cominciare a mettere in atto tutta una serie di azioni per cercare di risolverlo vedete che il nostro patrimonio informativo a questo punto si è molto arricchito molte informazioni in più ho un responsabile del ticket lo stato del ticket la data di creazione la priorità qui ho molte informazioni sulla tipologia di ticket questo è un ticket di manutenzione correttiva di nuovo informazione su quale sia il sito ma qui incomincia ad avere una persona di riferimento e molte altre informazioni posso identificare qual è il nostro prodotto la nostra tipologia di macchina che ha dato un errore qui vediamo la timeline cioè la serie delle azioni che tutta l'azienda fa quindi vari reparti diciamo così su questo ticket o possono fare su questo ticket e che sono sia nel passato sia nel futuro quindi costituiscono sia la storia di questo ticket sia la pianificazione futura e qui di nuovo vediamo l'eslano i service level agreement di cui parlavamo prima vedete che il sistema nel momento in cui ha creato il ticket ha fatto partire un contatore dei contatori sostanzialmente che mi dicono che questo ticket sta avvicandosi al limite a uno dei due limiti vedete che abbiamo stabilito due livelli di servizio uno per la creazione del work order e uno per la pianificazione del work order ecco tutte queste informazioni sul ticket andiamo a vedere se è già stato creato un work order per questo ticket e vediamo che in questo caso l'abbiamo già creato apriamo il work order ecco come dicevamo prima nella slide ricordate se si arriva alla creazione del work order questo significa che il ticket non è stato sufficiente ovvero che non è stato possibile risolvere il problema remotamente e quindi è necessario incominciare a pianificare un intervento da parte di un tecnico il work order è proprio il documento diciamo così che utilizzerà il tecnico per effettuare l'intervento nel work order work order numero 0091 mi viene riepilogata tutta la catena di eventi che hanno portato alla generazione del work order quindi l'allarme poi il ticket poi di nuovo le informazioni sul sito e quindi il work order lo stato del work order e molte altre informazioni di nuovo abbiamo la timeline anche qui che è la storia diciamo così di tutte le attività che si fanno per la risoluzione del work order e poi abbiamo tutta una serie di informazioni più di dettaglio direi classiche di un work order cioè per esempio qui abbiamo la possibilità per il back office del customer service nel momento in cui pianifica il work order di inserire delle parti cioè delle componenti nel momento in cui in alcuni casi succede già il back office si rende conto che per risolvere quel problema sarà necessario utilizzare una parte e quindi l'ha inserita nel work order poi abbiamo la sezione dove si specificano i servizi veri e propri tipicamente ore di viaggio e ore di lavoro stimati che poi diventeranno effettivi perché confermati dal tecnico e poi c'è la possibilità di specificare prevedere tutta una serie di service task task di servizio che il tecnico dovrà effettuare quindi a questo punto andiamo a vedere l'esecuzione del nostro work order in mobilità un secondo qui adesso mi sto spostando sul telefonino come vi ho detto può essere qui stiamo simulando il tecnico appunto che è sul campo utilizzeremo l'app del field service eccola qua e come ho detto prima questa cosa si può fare sia dando al tecnico uno smartphone sia anche un tablet o anche un notebook sempre utilizzando l'app queste app nel momento in cui il tecnico accede alla sua app come prima cosa vede la situazione dei suoi bookings cioè il suo calendario e vede come è pianificato in questo giorno e nei giorni successivi vedete che mi è stato assegnato un work order e infatti io vedo che appunto oggi devo eseguire questo work order ma il tecnico ha possibilità di vedere tante altre informazioni come la lista dei clienti per esempio dei contatti delle mani dei prodotti e anche la lista dei suoi work order diciamo che questo è parente un po' del bookings cioè della sua pianificazione nel bookings vedeva solo la sua pianificazione per questa settimana qui vede la lista di tutti i work order che gli sono stati assegnati a prendere un work order vede sostanzialmente tutte le informazioni che già vedeva il back office e che il back office diciamo così l'ha preparato per l'esecuzione del work order tra cui il numero del work order la priorità le istruzioni eventualmente che già il back office ti dà per l'esecuzione del servizio la tipologia di servizio ovviamente ha informazioni sulla località sulla posizione dove è situata la macchina chiaramente può anche far partire scusate il notore per farsi portare in quella località vede la timeline come vedeva anche il back office e poi vede tutte quelle informazioni che abbiamo già visto da parte del back office tra cui le parti che gli sono state assegnate e che tipicamente le saranno state spedite per essere utilizzate durante l'esecuzione del servizio ma poi anche i servizi ore di viaggio ore di lavoro poi lui può aprire e dichiarare precisamente quanto è stata la durata e poi anche salviamo e poi anche i service task volevo farvi vedere appunto il dettaglio dei service task perché qui abbiamo un'altra cosa interessante ecco vedete prima abbiamo visto col back office che il back office come dire preparava una lista di service task perché fossero eseguiti da parte del tecnico chiaramente si possono costruire dei template di work order in base al tipo di incident e quindi queste liste di task non è che si devono ricreare a mano tutte le volte ma semplicemente classificando il work order come appartenente a un certo tipo di tipologia appunto il sistema automaticamente applica il template e costruisce la lista dei task da eseguire vedete che qui abbiamo una serie di task da eseguire tra cui la verifica degli errori sulla centralina due checklist per la verifica degli allarmi del pannello di controllo e poi vedete che per esempio questa è un'altra possibilità molto interessante e che direi che praticamente in tutti i progetti di service che abbiamo fatto si è rivelata da utilizzare indispensabile abbiamo un'altra possibilità che è quella di eseguire gestire delle cosiddette ispezioni cioè delle checklist alla fine sapete che molti scenari di service nel momento in cui il tecnico va sulla macchina ed effettua il suo servizio raccoglie anche tutta una serie di informazioni eccole qua sulla tipologia di macchina sulla tecnologia della macchina ma tipicamente raccoglie informazioni di pressione temperatura e tante tante altre informazioni che variano ovviamente al variare della tipologia della macchina ecco volevo andare un attimo nella timeline perché un'altra cosa che vi volevo far vedere è il fatto che chiaramente è possibile generare un report del work order e che poi questo report del work order può essere generato manualmente o anche automaticamente nel momento in cui si cambia stato del work order stesso e questo è l'esempio di il report del work order di un nostro cliente che l'abbiamo realizzato chiaramente si possono anche inserire delle fotografie sul work order e poi queste fotografie vengono riportate nel rapportino di intervento e poi si dà la lista delle parti utilizzate delle ore di lavoro utilizzate la durata e chiaramente si può raccogliere la firma da parte del cliente e questa firma può essere anche riportata nel rapportino di intervento ecco l'ultima cosa che vi voglio vedere è in verità un video che non quindi adesso un secondo ecco io volevo far vedere un video perché abbiamo citato vediamoci adesso che arriva sì scusate un secondo che devo accendere l'audio ecco volevo far vedere un video perché abbiamo citato il discorso di poter di poter utilizzare gli HoloLens o meglio di poter diciamo l'Enemist365 ci mette a disposizione anche una tecnologia basata sugli HoloLens che sono degli occhiali sostanzialmente per mezzo della quale il tecnico avendo le mani libere può effettuare il suo intervento indossando questi occhiali vedere sostanzialmente le app quindi come si stesse usando il suo notebook o il suo smartphone su questi occhiali la stessa cosa si può fare anche con un telefonino quindi chiaramente più evolute è più comodo a utilizzare degli HoloLens ma la stessa cosa si può fare anche con un telefonino questo è molto importante perché consente di fare anche delle call così come questa Teams che stiamo facendo noi adesso tra tecnico e back office customer service quindi l'ufficio che lo supporta e capite che quindi questo è molto utile perché consente di supportare il tecnico in situazioni in cui lui per esempio abbia bisogno di utile di informazioni di dettagli tecnici di uno schema elettrico di un quadro di impianto da parte del back office e quindi diciamo in questa modalità dovunque si trovi il tecnico può chiamare il back office e fare una call team il back office e essere supportato dall'ufficio sostanzialmente dall'ufficio tecnico eccetera tra l'altro adesso qua vedremo proprio che vediamo adesso in questo video un esempio di questo di questo scenario e vedremo anche che la chiamata stessa con le fotografie anche che il tecnico può fare tramite gli HoloLens eccetera verranno associati automaticamente al work order che viene gestito sul sistema di field service qui vediamo il tecnico che arriva e che indosserà gli HoloLens ecco vedete che sta arrivando sta arrivando nel posto dove deve fare l'intervento e vedremo quel quadro elettrico su cui effettuerà l'intervento adesso indosso gli HoloLens con i quali farà una chiamata con la sua sede e il back office che lo supporterà ecco qui vediamo gli HoloLens come vi dicevo questa tecnologia si può utilizzare adesso vediamo la parte invece di colvere propria con il suo back office questa tecnologia si può utilizzare sia con degli HoloLens quindi con quegli occhiali che avete visto ma sia anche con un telefonino quindi una cosa molto più tipica qui vediamo il back office d'accordo vediamo un po' come è la situazione stamattina abbiamo un work order bene eccolo qui su City Power Ender Etonics mi sembra tutto abbastanza tranquillo un po' come è la situazione dei colleghi adesso riceverà la chiamata con gli HoloLens ecco Paolo che mi chiama vediamo un po' cosa vuole ciao Paolo ciao Michele ciao guarda sono qui dal cliente per il work order 001 e stavo guardando qui l'impianto e volevo chiederti se 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 è questa la parte del quadro sul quale devo lavorare ho ricevuto il codice di allerta 0023 che non conosco però no perché guarda questo qui è il quadro nuovo non è quella parte lì se vuoi ti mando aspetta che ti mando ti mando ti mando lo schema elettrico dell'impianto nuovo eccolo qua te lo mando perché si grazie ecco sta arrivando ok si ecco aspetta che me lo sposto ok chiarissimo chiarissimo allora aspetta giusto per chiederti conferma allora in realtà è qui si esatto esatto corretto si proprio lui benissimo allora guarda faccio anche una foto così documentiamo l'intervento e ti ringrazio tantissimo così lo agganciamo al work order e così rimane anche nella 9 esatto lo stai salvando ok salvo sul booking benissimo tra un secondo lo trovi direttamente sul work order ti ringrazio perfetto grazie a te figurati adesso vediamo se lo trovo sul work order ciao ciao perfetto allora torniamo al work order era questo qua ecco qua perfetto c'è la nostra chiamata registrata e poi ci sono i file condivisi perfetto tutto a posto bravo Paolo ecco abbiamo visto uno scenario appunto per quanto lo abbiamo visto velocemente abbiamo visto uno scenario completo direi di service che nasce dall'IoT quindi dai messaggi che le macchine ricevono tramite i messaggi IoT e che poi arriva al customer service cioè la creazione del ticket la qualifica del ticket la possibilità di risolvere il ticket già nel back office e poi la generazione di un work order la pianificazione di un work order con l'assignazione del tecnico l'esecuzione del work order tramite l'app e abbiamo visto anche uno scenario velocemente uno scenario di remote assist cioè di possibilità di dialogo tra il tecnico e la sede come vedete abbiamo adesso dovevamo lasciare uno spazio di pochi minuti in verità per se c'è qualche domanda se c'è qualche approfondimento qualche ulteriore informazione che vi interessa avere qui stiamo già mettendo anche i nostri riferimenti poi riceverete sia la presentazione sia anche il link alla registrazione della nostra del nostro webinar vi chiede c'è Cristian che ha alzato la mano con la farò una domanda sì si volentieri prego prego Cristian forse è muto non so sì vedo vedo che è in muto perfetto Cristian di Eurac questo mi suona la voce sì buongiorno buongiorno è partito per sbaglio la mano ah ok perfetto allora nessuna domanda allora se qualcuno appunto preferisce può come diceva Michele inviarci un'email con con eventuali domande si può usare comunque anche la chat qui del del webinar e in ogni caso noi restiamo a vostra disposizione per sia le informazioni sulla parte chiaramente su service in generale per per Dynamics 365 CRM se non ci sono domande possiamo possiamo concludere il webinar ok non vedo non vedo richieste allora vi ringrazio grazie a tutti per la partecipazione e e stiamo in attesa di risentirci alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti buona giornata buona giornata grazie 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 ciao a tutti grazie grazie